bentornati in questo nuovo incredibile video sul mio canale io sono ale the orange way loro sono gli arancione studios che vi ho già presentato oggi siamo che parlare di un video abbastanza particolare perché è un video particolare come avrete intuito dal titolo parleremo di socrate che secondo me sarebbe potuto essere e sarebbe stato un ottimo bitcoiner ma addentriamoci subito nel video e scopriamo il perché innanzitutto per chi non lo conoscesse socrate è un filosofo greco quindi di cui c'è pervenuta traccia solo attraverso scritti di altri filosofi infatti lui di suo non ha lasciato praticamente nulla di scritto la sua conoscenza veniva trasmessa sostanzialmente e per la maggior parte quasi esclusivamente per via orale motivo per il quale appunto di lui ci pervengono informazioni solo attraverso altri filosofi scrivono di lui platone che è il più celebre probabilmente il più conosciuto senofonte aristotele insomma di lui ci viene un quadro abbastanza completo e soprattutto coerente quindi tutte le versioni di tutti gli altri filosofi sono abbastanza coerenti sulla figura di socrate quindi di lui si ha un'idea una definizione una descrizione piuttosto diciamo fedele e accurata allora ma perché socrate era secondo me un bitcoiner quindi per quelli che non dovessero saperlo socrate quindi abbiamo appena detto che trasmetteva il suo sapere per via orale quindi con il parlato lo faceva tramite la maieutica infatti si parla si sente molto spesso parlare avrete sentito parlare da qualche parte di maieutica socratica cos'è la maieutica socratica ecco maieutica è un termine greco che deriva sostanzialmente dalla madre non deriva il termine dalla madre però diciamo che è stato usato questo termine in quanto la madre di socrate era un'allevatrice quindi si occupava di far nascere i bambini così allo stesso modo socrate utilizza la maieutica che di fatto è l'arte di far partorire per trasmettere il suo sapere quindi per insegnare i suoi discepoli i suoi studenti i suoi alunni tutto quello di cui ecco lui era diciamo sapiente tutte le cose in cui lui era sapiente quindi tutto quello che insegnare insegnava in questo modo tramite la maieutica socratica ecco ma cosa c'entra tutto questo con i bitcoin ecco diciamo che c'è un parallelismo se pensiamo a uno dei motti ricorrenti di bitcoin cioè don't trust verify non fidarti ma verifica sempre ecco un po analogamente uno dei motti di socrate diciamo motti tra molte virgolette chiaramente ci saranno un sacco di storici studiosi di filosofia tra di voi che si staranno mettendo le mani negli occhi fino a farli sanguinare per quello che sto dicendo mi scuso ovviamente in anticipo ma questa è diciamo una panoramica molto molto approssimativa molto imperfetta socrate aveva appunto uno dei motti era so di non sapere questa frase l'avete sicuramente l'avrete sicuramente sentita da qualche parte che sia un film che sia una serie tv che sia in qualche libro ma cos'è che vuol dire questa frase io so di non sapere ecco per socrate diciamo che l'indagine la ricerca della conoscenza nasceva proprio dall'ammissione spontanea dell'alunno di non sapere quindi prendeva coscienza del suo stato di ignoranza rispetto a un particolare argomento piuttosto che un altro solo da lì e dal desiderio di trovare risposte e di diventare sapiente con l'argomento poteva nascere un'adeguata formazione un'adeguata istruzione e nell'alunno poteva nascere appunto la risposta quindi socrate quello che faceva era tirare fuori dall'alunno quindi far partorire l'alunno far partorire all'alunno al discepolo la risposta la sapienza la conoscenza allo stesso modo appunto in don't trust verify abbiamo una situazione quasi analoga quindi non ci fidiamo mettiamo in dubbio tutto ogni cosa e verifichiamola quindi questo presuppone una ricerca infinita che in teoria dovrebbe essere infinita di risposte ovviamente tramite una ricerca infinita di risposte vuol dire un'infinita quantità di domande quindi diciamo che gli argomenti secondo me hanno qualcosa di affine ovviamente il tutto ha dei limiti in bitcoin tuttavia ho ritrovato moltissimo di questa umiltà diciamo socratica naturale e anche perché bitcoin è un argomento veramente enorme è una rivoluzione orizzontale che attraversa per una via o per l'altra da tutte le vie possibili moltissimi argomenti quindi assolutamente difficilissimo ritenersi sapienti di bitcoin esperto in bitcoin cosa vuol dire esperto in bitcoin che sai programmare quindi sai mettere mano a bitcoin core oppure che sei un esperto della rivoluzione economica di bitcoin quindi sai esattamente ogni sfaccettatura economica a cui può portare bitcoin oppure ancora sei assolutamente esperto della libertà che vuole portare bitcoin di come può farlo di come non è stato fatto prima di come è stato fatto prima ecco cosa vuol dire esperto di bitcoin secondo me non esiste nessun esperto di bitcoin esistono sicuramente tantissime persone che sanno molto di bitcoin e appunto da tutte queste persone io in quasi tutte le persone che ho incontrato non si sono mai definite di per loro esperte di bitcoin quindi è questo che dicevo quando appunto poco fa accennavo che ho ritrovato molto nell'ambiente bitcoin che per lo meno io frequento che so che non è so non essere magari la totalità dell'ambiente bitcoin mondiale perché chiaramente volenti o nolenti un po' ognuno di noi si costruisce la sua rete di connessioni alle quali purtroppo o per fortuna capisce durante il suo percorso essere più o meno affidabili o comunque avere un credito più o meno alto quindi nelle persone che conosco io che seguo io ecco ho ritrovato moltissimo questa umiltà socratica quindi abbiamo detto maieutica so di non sapere don't trust verify secondo me socrati sarebbe stato un bellissimo un grandissimo orange pillatore di bitcoin perché perché infatti è lo stesso diciamo metodo che utilizzo io quando devo orange pillare qualcuno non troverete la lezione frontale con le slide in cui vi dico guarda questo 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 quest'altro questo è così perché è stato così leggi qua leggi là bitcoin è così fine della della storia questa è la lezione frontale unidirezionale in cui il flusso è unilaterale quindi va da me all'alunno e c'è un solo verso di scambio quindi invece quello che prediligo che vorrei fare io mi piacerebbe diffondere diciamo un po' questo metodo che chiaramente è lungo quindi ogni metodo come la sicurezza di bitcoin ha i suoi trade off quindi questo metodo è molto lungo e se non trovi la persona giusta la perdi inevitabilmente in molto poco tempo però mi piacerebbe ecco e mi piace adottare questo metodo quindi io non insegno bitcoin dicindogli che cos'è bitcoin ma per esempio innanzitutto gli chiedo che cos'è bitcoin per lui per te quindi partendo da quello che lui sa di bitcoin che è sicuramente sbagliato passando per domande per esempio ma tu sai come funziona l'euro sai come funziona la valuta fiat da qui dalla risposta a queste domande può già nascere per esempio un bitcoiner perché perché appunto si fa subito una discriminazione ma nel senso più letterale del termine tra le persone che vogliono effettivamente sapere e le persone che non vogliono invece sapere quindi se nonostante sia evidente che il tuo interlocutore non sappia assolutamente nulla di euro nulla di fiat o nulla di economia e non vuole saperne di più nonostante le domande che tu possa fare saprei che quella persona assolutamente non probabilmente non è nel momento della sua vita in cui può accettare bitcoin accettare bitcoin sembra brutto sembra tipo lo spirito santo però non è nel momento riformuliamo non è nel momento della sua vita in cui può accettare di intraprendere un percorso che volenti o nolenti quindi inevitabilmente lo porterà a mettere in discussione e a distruggere una serie di convinzioni che un po' si era costruito un po' aveva imparato quindi gli erano state passate e una serie di certezze dovrà appunto distruggerle ed è una cosa molto dura da fare soprattutto se sei una persona che è un po' in là con l'età che hai vissuto tutta una vita secondo appunto una serie di certezze una serie di conoscenze una serie di precetti una serie di convinzioni distruggerle chiaramente è difficile per tutti ed è assolutamente capibile non tutti sono pronti ad affrontare questo tipo di percorso quindi in quel caso gli si augura il meglio arrivederci probabilmente saranno coloro che si faranno avanti una volta che ricomincerà la bull run incredibile di bitcoin e si ricorderanno di aver fatto quel colloquietto lì con quel tizio lì vorranno approfondire probabilmente per il lato speculativo sarà un bitcoiner in più che entrerà per il lato speculativo magari andando avanti approfondirà anche tutti gli altri lati bitcoin ma se invece la persona con cui state parlando lo vedete chiaramente nella faccia la sua sorpresa nello scoprirsi ignorante di tutte queste cose che possono sembrare in realtà che dovrebbero essere abbastanza basilari per esempio appunto come funziona l'euro chi lo conia perché lo fa o come funziona banalmente l'economia attuale ecco se in loro dovreste mai vedere quella piccola scintilla negli occhi che li fa sussultare per diversi secondi e chiedersi ma io dove sono stato fino ad adesso perché non me lo sono mai chiesto ecco quello sicuramente sarà un bitcoiner e vi farà tantissime domande a cui voi dovrete rispondere obbligatoriamente sì con qualche risposta ma soprattutto con altre domande facendo cercare a lui al vostro interlocutore la risposta se non dentro di sé perché chiaramente sono materie scientifiche molte di quelle di bitcoin quindi uno dentro di sé non ha tutto però facendo cercare in sé la voglia di cercare le risposte quindi sarà lui che appunto magari si metterà a casa a cercare con internet a scremare contenuti e scremare notizie e boom avrete creato un bitcoiner che non fermerà mai più nessuno sarà uno di quelli che presenzierà a tutte le conferenze anche se questo ovviamente non è un dato che fa capire chi è bitcoin o no ma sarà uno di quelli mai reattivi su twitter anche questo non lo è sarà un bitcoiner dalle forti convinzioni a cui sarà giunto però solo attraverso se stesso la propria ricerca e non attraverso quello che gli avete detto voi perché gliel'avete detto voi ecco secondo me questo tipo di bitcoiner sono quelli che saranno invincibili non corruttibili ovviamente tutto tra mega virgolette ma saranno quelli più duri a morire per citare un film di discreta qualità diciamo per questo video era tutto spero di avervi interessato un po' con questo parallelismo tra la Grecia antica e i giorni nostri è un argomento ovviamente che a me appassiona molto chiedo ovviamente scusa a tutti gli storici piuttosto che a tutti gli studenti di filosofia o laureati in filosofia se avrò detto ovviamente qualche imprecisione se ho travisato qualcosa questo però è quello che è pervenuto a me quello che mi sento di condividere so che non sono un insegnante di filosofia né nulla ma trovavo assolutamente interessante fare questo tipo di parallelismo tra appunto queste due ere storiche se il video vi è piaciuto ovviamente vi invito a iscrivervi al canale innanzitutto qua sotto non mi ricordo mai se è qua sotto o qua sotto a mettere un mi piace a condividerlo magari con qualche vostro amico studioso di filosofia per farlo inorridire oppure potete anche basta, niente per farlo inorridire e per la prima volta in assoluto mi vedete scillare il mio codice sconto di Relay infatti qua c'ho la felpa di Relay a tema natalizio quindi sono un po' in ritardo come al solito ma se volete acquistare Bitcoin con lo 0,5% di sconto sulle commissioni che si prende Relay potete farlo utilizzando il mio codice Orange Way in questo modo appunto avete il 0,5% di sconto sulle commissioni ma soprattutto aiuterete a sostenere il mio canale il mio podcast e quello, i contenuti che produco che voglio produrre che voglio portarvi perché ovviamente fino ad ora per ora sono autosostentato naturalmente sono ancora molto piccolo tanto da dimostrare tanta voglia di dire, di fare spero un po' si veda e quindi ripeto se non fosse chiaro codice Orange Way acquistato attraverso Relay ovviamente se avete delle domande su Relay qualsiasi cosa scrivetemi pure su Telegram sono sempre TheOrangeWay scrivetemi su Twitter handle NespaBis NespaBis altrimenti potete lasciare un commento qua sotto nel video per lasciare una vostra opinione ditemi cosa ne pensate di questo parallelismo se anche a voi era venuto in mente o altro per questo video è tutto noi ci salutiamo da Ale TheOrangeWay dagli Arancione Studios qua dietro di me è tutto e ci vediamo al prossimo video 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 Grazie a tutti.